Siamo alla fine dell'anno scolastico e GDTV si trova nella seconda A della scuola Santa Caterina da Siena di Milano. Il titolo di questa ricerca? Bion, l'associazione della bioplastica. Perché? L'abbiamo fatta perché ci ha costretto la prof. No, vabbè, no, non è vero, scherzo. Perché ci interessava molto l'argomento riguardante la bioplastica e siccome noi abbiamo studiato in precedenza la plastica e la bioplastica abbiamo voluto fare un powerpoint. L'hai fatta da sola questa ricerca? No, no, l'abbiamo fatta noi quattro insieme. L'abbiamo fatta qui? Achira Maraniello Io Lorenzo D'Ambrosio Nicolò Sansonetti E ovviamente io, Matteo Trezzi Bene, vogliamo iniziare? Certo Il petrolio Il petrolio è una tentazione per l'uomo Fin dall'antichità il petrolio è stato molto utilizzato dall'uomo La prima volta fu per il fuoco greco, utilizzato nella guerra di Troia Poi fu utilizzato anche come uso curativo Addirittura esistevano delle terme di petrolio Negli ultimi due secoli sono state inventate le trivelle che estraggono maggior quantità di petrolio rispetto a prima Ma soprattutto fu inventata la plastica Ci sono diversi tipi di plastica Però che ognuna ha delle proprietà e caratteristiche diverse Per esempio AC, aceto di cellulosa PVC, polivinicloruro PP, polipropilene PE, polietilene E ce ne sono molte altre Purtroppo però il petrolio inquina l'ambiente Molte volte per colpa delle navi petrolifere Ma anche la plastica I sacchetti di plastica vengono spesso dispersi nell'ambiente E rimangono lì per centinaia di anni Nasce il PHS Il PHS è un polidrossi al canoato E il PHS viene prodotto grazie a queste cellule di PHS contenute in alcuni batteri Questi batteri possono sia produrre il PHS ma sia degradarlo Come per esempio se noi mettiamo una bottiglia di PHS per terra La lasciamo lì per 15 giorni Si degraderà naturalmente grazie ai batteri che ci sono nel terreno Dopo un anno di ricerca abbiamo scoperto che Un centinaio di anni fa, all'incirca, in Francia Uno scienziato era riuscito ad isolare una fonte di energia di batteri non patogeni Amici dell'uomo Solo che essendo il 1920 non esisteva ancora la plastica come esiste oggi E quindi questa persona scoprì semplicemente che dei batteri cibandosi di fonti di carbonio di scarto Quindi fondamentalmente di zuccheri di scarto A loro interno producevano una fonte di energia Questa fonte di energia paragonata a quella che fa l'uomo Che produce l'uomo che è il grasso Per questi batteri era poliestere, quindi plastica E in seguito il Minerva PHA Il Minerva PHA, a differenza del PHS, ha la proprietà di degradarsi nell'acqua E soltanto se lo lasciamo in un semplice fiume o in torrente Per una decina di giorni si degraderà senza lasciare detriti Ci sono diversi tipi di Minerva PHA Infatti c'è per esempio quello prodotto dalle barbabietole da zucchero O quello prodotto dalle canne da zucchero Come viene degradata la plastica? La plastica, la prodotta dal petrolio, non si degrada ma si fotodegrada In centinaia d'anni Mentre i nuovi tipi di bioplastica Quelli che ha detto il mio gentilissimo collega Si degradano Il PHS viene degradato dai batteri Che lo riconoscono come se fossero il loro nutrimento Mentre il Minerva PHA si degradano nell'acqua Cosa si produce con la bioplastica? Con la bioplastica si possono produrre bicchieri, lampade, bottiglie o anche Lego Infatti Bion si è messa in collaborazione con un'altra azienda, la Lego Per produrre mattoncini in bioplastica Poi lo svantaggio della bioplastica Che ha avuto molte lamentele È che per produrlo servono alimenti Se noi per esempio usiamo una piantagione di mais E usiamo tutto il mais per produrre la plastica Se continuassimo a usare gli alimenti per produrre Non ci sarebbe più cibo I fondatori di Bion sono Marco Astorri Che è colui che ci ha fatto partire questa azienda Marco Astorri è un imprenditore di 45 anni, di Bologna Che casualmente nel 2006 si trovava a fornire degli ski pass Quindi delle tessere contactless E chi le comprava gli chiese se potevano essere sostituite con altri materiali Fondamentalmente che non fossero carta Perché si bagna nella neve Ovviamente dopo non funzionano più E che non fossero plastica Perché poi la plastica a primavera si ritrova sparsa nelle montagne E lì devo dire che mi si è aperto un mondo Io in quel momento facevo microchip silicio E quindi vedere che c'era la necessità di avere altri prodotti Che non fossero plastica Un tipo di materiale buono Però che fosse come la plastica ma biodegradabile Mi ha fatto capire che c'era un mondo che stava per partire Poi abbiamo Cognigiani Che è un imprenditore Che a Marco Astorri è andato a bussare alla porta E gli ha chiesto se volevano fare il progetto insieme a lui La Bion ha fatto anche le lampade floss Che vengono usate anche in questi anni Questo powerpoint è stato creato da Achiera Maragnello Lorenzo D'Ambrosio Matteo Trezzi E Nicolo Sansonetti Un applauso Secondo me i miei compagni hanno fatto un bel progetto Perché hanno spiegato tutto E ti è stato utile? Sì Ho imparato che bisogna sprecare di meno Perché il petrolio appunto come ha detto Nicolò Sta finendo E che c'è bisogno di produrre comunque la plastica Perché serve e ci servono altre materie per produrla Secondo me è stato un progetto strutturato molto bene E appunto è molto bello E ho imparato cose nuove Perché è pieno di informazioni E hai parlato con i tuoi genitori di questo lavoro fatto dai tuoi compagni? Assolutamente sì Perché è importante alla fine sapere che cosa ci circonda E il lavoro di questi ragazzi è sviluppato bene Ci hanno messo impegno, voglia e pazienza E sì è interessante anche scoprire cose nuove Mi ha rivelato anche cose che non sapevo Allora secondo me è stato un progetto molto interessante Perché trattava degli argomenti veramente sensibili E come potrei dire Perché lo spreco al giorno d'oggi è molto grande E secondo me questa è una plastica rivoluzionaria Che potrebbe cambiare tanto Sì io ne ho parlato i miei genitori E hanno anche loro trovato che questo progetto sia molto interessante A me è piaciuto Mi sono divertita Ho scoperto cose nuove E sono stati bravi anche a presentare Avrà un futuro questo progetto? Secondo me sì Se ci mettiamo sì E ho scoperto cose nuove E ho scoperto cose nuove E ho scoperto cose nuove